Jacopo, esordio migliore non poteva esserci, Tardini che ti acclama più di una volta per le tue giocate, vittoria importante, rigore procurato da te? Sì, sicuramente l'importante stasera era partire col piede giusto, è quello che abbiamo fatto, abbiamo portato a casa i tre punti, i tre punti e questa diciamo che era la cosa più importante stasera, siamo contenti e continueremo a lavorare così. Si è sembrato paradossalmente uno dei meno emozionati all'inizio in un Tardini, in una partita che comunque metteva un po' di apprensione, un po' di ansia da prestazione, ti ho visto subito molto protagonista anche in mezzo al campo, hai giocato molto i palloni anche nella prima fase che magari è stata un po' più complicata per il Parma. Sì, giustamente il pubblico di Parma ci chiede tanto, noi cerchiamo di ripagarli sul campo, i tifosi ci hanno aiutato in questa partita e noi siamo contenti e cercheremo di fare sempre meglio. Sì, sull'episodio del rigore sembrava esserci e comunque poi il Parma aveva segnato in quell'occasione con Nocciolini, pensavi a un certo punto che l'arbitro non avrebbe neanche segnato il rigore e avesse tenuto il gol valido di Nocciolini oppure hai visto subito che andava sul discreto? No, io la prima cosa che ho fatto è che ho guardato l'arbitro e ha dato rigore, poi abbiamo visto la palla entrare e un po' di rammarico c'era, però Manuele è stato bravo, l'ha buttata dentro e questo è l'importante. Come ti sei trovato in mezzo al campo con Munare Barillà? Molto bene, molto bene, io credo che comunque questa squadra, tutti i giocatori sono titolari secondo me, siamo una squadra di grande livello e chiunque gioca cerca di dare sempre il massimo, stasera abbiamo fatto un'ottima partita secondo me tutti quanti e questa è la cosa più importante, l'importante è nei tre punti e l'abbiamo portati a casa.